ok ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi facciamo un veloce unboxing e guardiamo le caratteristiche di redmi 9 è arrivato ieri pomeriggio stamattina facciamo questo punto unboxing vediamo le caratteristiche vediamo se vale la pena in descrizione trovate il link dove da dove mi è arrivato quindi da amazon 127 euro oggi probabilmente fra poco costerà ancora qualcosina in meno detto questo passiamo al video passiamo subito all'apertura della scatola scatola la scatola il sacchetto successivamente eccolo qua che bello piccolino buona batteria 32 giga 3 giga di ram telefono decente proporzione qualità prezzo direi buona allora pronti via incontriamo la scatolina con la cover libretto delle istruzioni e garanzia internazionale clip per rimuovere la sim il telefono subito subito qui tre fotocamere sblocco di impronta biometrico posto qua sul coso come vedete la sporgenza non è eccessiva eccolo qua questo è redmi note 9 vedete che le dimensioni sono leggermente più compatte ma non eccessivamente compatte non è tanto più piccolo comunque accendiamolo nel frattempo venuto già con una pellicolina sul vetro perché non hanno gli schermi redmi non hanno gli schermi olio repellenti e quindi vengono venuti con la pellicola olio repellente a parte fast charger con micro usb e presa di ricarica micro usb e adesso andiamo a vedere un pochino nello specifico le caratteristiche intanto che la prima cosa che basta sicuramente all'occhio di questo telefono è il prezzo viene venuto mediamente come potete potete vedere in firma in descrizione su amazon a 130 euro di media 130 120 comunque dipende dove lo acquistate se di importazione con garanzia italiana ci sono in ballo un po di cose comunque il redmi 9 esce con la mia ui con la mia ui 11 e e e android 9 touchscreen quindi le dimensioni dello schermo sono da 6 e 53 pollici e la risoluzione da 2340 per 1080 pixel il prezzo che costa vediamo che non manca veramente nulla questa 13 megapixel scatafoto di alta qualità di risoluzione da 4 mila 128 per 3096 pixel registra video in full hd con risoluzione di 1920 per 1080 sempre pixel appunto la miui l'abbiamo vista e l'android del 10 pardon era l'android 11 è una versione 2020 quindi recentissimo le dimensioni sono 163 per 32 per 7 e 77.1 il peso di 198 è comprato su internet di importazione quindi non ha gara faccio una premessa tendenzialmente i telefoni troppo bassi nel prezzo sono di importazione dalla cina e non sono coperti da garanzia europea ve lo dico prima ok comunque dalle 120 alle 170 euro è la media del prezzo è data a oggi per il telefono per quello che costa ha veramente pochi competitor io metterei samsung a 01 come competitor che cosa sulle 170 euro 130 dipendevolo acquisti così su due piedi non mi viene in mente nient'altro forse l'ipsilon 6 dalla huawei l'ipsilon 6s ma questo fondamentalmente quello che mi viene in mente come come competitor diretti di questo telefono il chipset è un elio g80 della mediatek e la gpu è una mali g52 mc2 la ram sono 3 giga e di memoria in questo caso è da 32 giga ovviamente memoria espandibile memoria espandibile non so bene quanto io comunque credo fino a 128 sicuri il schermo è un ips retroilluminato quindi un lcd a 16 milioni di colori il vetro è un gorilla glass come vi dicevo prima non è oleorepellente viene venduto con questa pellicolina che gli dà la oleorepellenza è quella cosa che interessa a tutti a tutti gli stag tutti voi che state su instagram su tik tok fotocamera 13 megapixel 8 megapixel e 5 megapixel più la m2 che dà la risoluzione bokeh e comunque come dicevo prima risoluzione della 4100 risoluzione massima ovviamente da 4128 per 3096 pixel da 8 megapixel e il video in full hd che vi dicevo prima sono da 30 fps quindi di ottima qualità particolare interessante per concludere che secondo me a molti di voi interesserà la batteria è da 5 mila e 20 mili ampere quindi molto molto capiente ok quindi dura abbassare prima appunto questo è redmi la versione not 9 s e le dimensioni ok sono leggermente più contenute ma veramente poco come vedete si parla di mezzo millimetro di dimensione è un pochino più pesante forse redmi not 9 s e vabbè ovviamente siccome costa di più ha dovuto mettere il buco nello schermo e qualcosina in più ovvio qua stiamo facendo un paragone che non è un vero paragone perché questo costa comunque 100 euro in più o comunque se non ne costa 100 ne costa 60 70 in più è un altro telefono diciamo che avere più disponibilità forse è meglio questo però ovviamente uno fa la scelta in base alle sue tasche e alle sue esigenze io volevo concludere con una premessa proporzione qualità prezzo è un buon telefono è un telefono che posso consigliare a quel tipo di persona che non vuole spendere molto ma ha un minimo di pretesa dal telefono lui ce le ha offre quelle cose che potrebbero andare bene per voi se non volete spendere un miliardo il telefono è buono è un telefono ovviamente che va a prendere una fascia di prezzo e quindi un'utenza che può variare molto dal ragazzino che si approccia al primo telefono alla persona che ha qualche anno in più e poco gli interessa di quello che può essere il telefono se lo comprate per il gaming quindi per giocare tanto queste cose qua ve lo sconsiglio i 3 giga di ram secondo me non vi daranno un supporto adeguato a queste cose quindi se vi piace che dovete fare tik tok instagram tutte quelle cose lì può essere un buon telefono se volete se lo prendete per un acquisto per appunto il gioco gaming come dicevamo prima vi consiglio di andare su qualcosa di più il prezzo un po più alto ma con un po più di ram e le caratteristiche un po migliori detto questo ci vediamo al prossimo video mettete like al video e scrivete nei commenti cosa ne pensate ciao